Tra gli eventi legati alla giornata mondiale delle malattie rare che si celebra oggi c'è anche quello che si è tenuto qualche giorno fa alla Sala Sant'Anna di Perugia, rarità senza limiti, fortemente voluto da Gloria Tramontana, una ventenne affetta da una malattia genetica rara. Tra l'evento patrocinato dal comune di Perugia e dalla provincia di Perugia insieme al CESVOL tra gli ospiti intervenuti c'era Giussi Versace, un'atleta paralimpica molto nota e sempre in prima linea per le iniziative a sostegno delle persone con disabilità.